È ufficialmente in vigore la zona a traffico limitato in Piazza Duomo ad Avellino. Stop dunque alle auto nella zona della cattedrale e con l'ufficialità si parla anche di multe. Chi oltrepasserà il varco di Piazza Mendola senza essere inserito nella Wild List verrà automaticamente multato. I trasgressori saranno dunque sanzionati con una multa a partire da 80 euro. Entra dunque in vigore il provvedimento che fu disposto nel marzo del 2017 dalla Giunta Foti, ratificato la scorsa primavera dal commissario prefettizio e recepito dalla Polizia Municipale di Avellino l'8 novembre. La ZTL infatti riguarderà la zona a traffico limitato a via Seminario, via Setti Dolori e via Duomo. Ma se per i residenti la chiusura era una decisione fondamentale da prendere in quanto da anni si lamenta il parcheggio selvaggio e il piazzare davanti alla cattedrale diventato un parcheggio gratuito alla merce di tutti, rendendo così poco decoroso il Duomo di Avellino, non la pensano così i commercianti della zona che si sono ribellati a questa decisione. In virtù di ciò il Comando di Polizia Municipale sta valutando l'eventualità di inserire delle fasce orarie in cui si è consentito oltrepassare il barco anche a chi non figura nelle liste di accesso.